Musica Questa è una giornata che si svolge annualmente alla fine di ogni anno di lavoro dei nostri studenti di dottorato di ricerca, nella quale gli studenti presentano i loro dati sotto forma di poster che è una maniera molto interattiva perché ovviamente il poster può essere visitato da chi è interessato ed essere discusso con la persona che ha prodotto i risultati. Questo è un modo meno formale e più produttivo di presentare da parte degli studenti dei primi due anni la loro attività di ricerca svolta nel contesto del dottorato di ricerca. Gli studenti del terzo anno che quindi andranno poi a difendere la loro dissertazione per il titolo di dottore di ricerca invece hanno esposto in una relazione orale ieri ai collegi dei docenti tutta la ricerca che hanno svolto nei tre anni di lavoro. Musica Musica Musica